Sono stati due giorni importanti sicuramente di confronto dell'inizio di un percorso che intendo portare avanti di confronto con le amministrazioni dell'Unione Europea, con le istituzioni dell'Unione Europea ma anche con gli enti del terzo settore, con l'European Disability Forum che ha una voce importante rispetto alle famiglie, alle persone con disabilità e alle strategie che si portano avanti in tutta l'Unione Europea. Ed è un percorso che vorrei che coinvolgesse proprio anche tutti gli altri paesi nel determinare alcuni punti focali sicuramente la messa a terra appiena della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che nel nostro paese, in Italia, stiamo portando avanti soprattutto con la legge delega per la disabilità che prevede cinque decreti attuativi dei quali ho esposto e ho parlato con tutti gli interlocutori che ho incontrato in questi due giorni. Credo che sia importante ragionare anche di molte altre cose, in particolare ho incontrato il commissario Smith e poi presto in Italia, settimana prossima, incontrerò il commissario Dalli e sicuramente parlare di inclusione lavorativa, di percorsi di formazione e di accompagnamento all'inclusione lavorativa, di dimensione abitativa, del rispetto per esempio del caregiver familiare, della figura, di chi cura e ama le persone di cui si prende cura, ma alla quale in Italia dobbiamo ancora dare un pieno riconoscimento. Questi sono stati alcuni dei temi trattati e soprattutto l'inizio di un percorso che vuole attenzionare le buone pratiche che ci sono nel nostro paese e tutti quei modelli che a mio avviso possono essere esportati anche e discussi con tutti gli altri stati membri fino ad arrivare a giugno quando ci sarà la conferenza mondiale a New York sulla disabilità e dove vogliamo anche trattare in alcuni eventi collaterali alcune di queste buone pratiche che riguardano l'autismo e che riguardano i percorsi di cura per esempio attraverso protocolli specifici nei contesti ospedalieri. Quindi questi sono stati i principali temi trattati, sicuramente è stato un primo incontro conoscitivo e poi mi auguro di tornare presto e di approfondire alcune di queste tematiche direttamente sia con le associazioni che con le istituzioni.